Va bene ragazzi, si lo so, costa più di tempo Allora, in questo video facciamo la sfida più epica di tutti i tempi Italiano contro rumeno contro africano Sono ben in bilico perché ho la terza gamma che mi ha aiutato a stare in piedi Ah, però la sua terza gamma mi sa che è un po' più lunga Andremo in giro a fermare le ragazze Chi di loro tre riesce a prendere più baci Vince 10 euro offerto da noi, ci state? Ma vedi anche i rimorchi di più Ragazzi, cosa vuoi fare con questa maglia? Con questo basbanni? Cosa vuoi rimorchiare con questo? Eh, basbanni e rimorchi ragazzi Le bambine di 5 anni Rimorchi le bambine, tu rimorchi i bambini invece Mi dispiace, non mi chiamo Michael Se tu ti dico il mio nome Eh, tu puoi scappo perché... Svengo perché apri l'alito che puzza Ragazzi, prima questa sfida epica tra rumeno, italiano e africano Cominci, ricordatevi di iscrivervi al canale Ogni persona che si iscrive vince Una pizza da lui che è napoletano Una cioccolata da lui che è africano E in Romania da cosa vince? Ma noi la grappa fra la grappa La grappa, una grappa offerta a lui Iscrivetevi al canale Yeah Abbiamo un italiano, un africano E un rumeno Sembra una barzilletta Ciascuno di loro ha 10-15 secondi per venire da voi Provare ad approcciare Alla fine dovete dare un bacio A chi di loro tre lo merita Chi comincia allora di voi tre? Dai, facciamo cominciare prima i più brutti Oh, marina Ma l'inizio era lui fra, visto che è italiano, no? Vai, vai, iniziate, vai Che lui lo vedo prima Sì, certo Ciao ragazzi, sono Samuel Quanti anni ho? Ho 19 anni Sono un bel ragazzo Sono cioccolato al latte Mamma? Mamma? Sono qui in centro E a fare video Sono con i pirla Mamma sta rimorchiando Gli ho lavati i piatti? Sì, le mutandine le ho pulite Ciao Oh, ha fatto già ridere Mi piace il cioccolato fondente però A me ne sono dei due Ciao, ciao Non ti arrendere Allora ragazzi Sono qui in Napoli Ok, tipo Napoli Mi reputo un bel ragazzo Si, botte piccola a vino buono Ah, ok Sono rumeno, no? Ci vede anche dalla giacca Guardate la maglia Gucci Poi, tipo Napoli Tipo Napoli anche lui adesso Non è vero A chi mi dà il bacio a me Facciamo metà metà i soldi Ok Ah, offre dei soldi Ma potete anche fare una scelta diversa voi due Direi non guardarli Ma no Guarda come lì ci hanno tra di loro È una scelta tosta, vero? Non direi che è molto tosta Non è tosta la scelta So che vorreste scegliere me Ma io non ci sono nel gioco Mi dispiace Ne sei tanto sicuro Eh, il primo ballo africano Incredibile Balletto Ma certo che prende il bacio Lascia sotto te, non lo sai, è vero? Come ti chiami? Vai, lascia tieni Ciao Lo puoi dare anche in bocca se vuoi No, no Uno Africa, uno Italia, zero Romania Ok Prostima sfida per il bacio Ragazzi, chi comincia stavolta? Le damigelle che aspettano Ascende il campo rumeno Allora, mi chiamo Edi La presentazione di uomini e donne Ha una maglia Gucci da notare Quindi c'ha i soldi È uno che c'ha i soldi Speriamo non sei Trocca, non sei di aiuto tu Costa più di te? È uno che sa rispondere Semplicemente Perché devo un baciare te? Eh, perché secondo me sono Tanto guarda le video Sono un carico Devo baciarti io Infatti, vabbè, chiaro È un ragazzo carino E se volete darmi un bacio sono buono Ciao ragazze, sono Samuel Sono nero Ma può non sembrare Ma no Sono un bel ragazzo Ho, non vi dico l'età Perché sono un casino E almeno io ho parlato Dovete scegliere a chi dare un bacio Anche io Tutti a lui Tutti e tre Ragazzi, avete fatto pena qui Eh, sono scappato Eh, vabbè, ma tu Tu sei illegale Uno Due Tre Mamma mia Guardalo Io chiedo papi Hola, è spagnolo Habla mucho spagnolo Mexico 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 Si è già portato avanti Sono il profugo Hola, chico Le ragazze sono di là Hola, chica Io soy un chico muy guapo Escusami Io soy un chico muy muy guapo Perché io tengo cioccolato dentro Tengo muy muy Nutella muy cioccolato Olio de palma, olio de palma Muy olio de palma No, fa male l'olio de palma No, olio de palma Soy italiano Muy 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 guapo Tengo un bacio Un beso muy bueno Siccome siete belle ragazze Scegliete un bel ragazzo Ah, ok, ok Sono rumeno, no? Mi chiamo Edi Adesso se non stai zitto Ti tiro un c***o in bocca Oh Camiseta della Gusi Tarocca Camiseta Supreme Original Dei bambini piccoli di 5 anni Sono il più bravo a baciare Sono muy bueno a besare Stanno confabulando Cada una tiene che Elekir un ganador Allora, chi scegliete? Gioia Vai Gioia Lui Il cioccolato Ok Ancora il cioccolato Quindi 5, 1 e 2 Qua è arrivato Samuel Di Martini In aiuto di Michael Adesso aiutiamo Vediamo due tip Qual è il problema? Qui i bianchi cercano di rinforzarsi Ma i neri sono più forti Wakanda Forever Gioia ha vinto Ci sono due italiani Uno e due Visto siamo top Voi siete? Italiana No 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 Hai qualcosa da aggiungere Comunque italiano Molto meglio dello stuoniero Razzista Razzista Ciao ragazzi sono Samuel Ma già detto che sono africano Sono africano Ah non si capiva E sto vincendo io Tu zero titoli? Mi hai già vinto tutto? Qui ovviamente dobbiamo mettere i sottotitoli perché parla stento l'italiano Quindi c'è un ragazzo che lo capite bene o? Sì vabbè ma Sì vabbè ma Ragazzi ho briso per lezioni Tal deg subit tal deg subit Parla di italiano di me Romagnolo Non capisco Romagnolo Vai Romagnolo cosa hai da dire? Allora mi chiamo Eddy Se mi fate vincere il premio lo dividiamo Ah ah ecco 10 euro Ecco invece io non ho bisogno di dividere solo un premio Quello che volete ve lo offrivi È lui il premio capito? Adesso dovete scegliere chi facereste No no italiano Italiano Uno Anche tu Annaggia ho due per italiano Aiuto Samueli Martino fa il suo effetto 5 4 1 Ma se provo a prendere il numero? Non è un problema Non è una gara di sprint Ma è un allungo Quale allungo? Cos'è che si allunga? Non hai guardato Donna cosa guardi? Ti ho beccato? Aspettate vi spiego un altro Dio ma guardate tipo il canale YouTube Sì Mi presento sono Michael Lui l'italiano Sono l'italiano Anche se lo sembra E come sappiamo gli italiani sono molto carini Dolci C'è qualche eccezione E sono gli stranieri perché capito Cioè trattano male Poi non si sa mai che loro Vi rubano in portafoglio Quindi non si sa Quindi se vuoi dare bacio a me sono qua Io sono Eddie Cioè non è come ha detto lui Perché noi non rubiamo Perché ne abbiamo abbastanza di soldi Maglia Gucci Maglia Anche la giacca fra 400 euro In Romania quindi fa 500 euro che fa 1 L'ho presa dalla Francia sta giacca Quindi Mi fate vedere aggressivi con le ragazze Maleducati Vi offendete tra di voi Non lo volete l'uomo gentile Educato Sono io Ho detto l'uomo non i bambini Gabriele aiuto del rumen Allora lui è molto simpatico Si sa cucinare Ah attenzione Io ho la macchina praticamente tra poco Quindi vi posso portare in giro con la macchina Tranquillo Penso alla patente prima Che se c'è patente Ciao ragazzi Sono Saul E niente sto vincendo E sono cioccolato al latte Come ho detto anche prima Voi piace cioccolato al latte? Si si Allora benissimo Sono dolcissimo Mia mamma un giorno mi raccontò Che io sono nato tramite un uovo di Pasqua Quindi non posso che essere dolce Facci uno dei tuoi balletti magari E non vale così però Così rimorchi su Non mai volete girare con uno che fa sti balletti da scemo? Ora valuta la situa Venite qua Il parziale per adesso è cinque baci Quattro baci Un bacio Non è che perché ho un bacio Adesso per tenerità Tenerezza Non tenerità Io c'ho uno C'ho tre in italiano E sono italiano L'ho fatta apposta L'ho fatta apposta Lavori in corso Dopo tenerità Mi dispiace Sei già Squalificato No no Sei squalificato Dopo i balletti No è vincitore Quanti soldi? 10 euro Mane, 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 mane Talatala Talatala Al terzo posto Adi Edi Edi Un applauso Uno a zero Roma Un applauso Un applauso Al secondo posto Maiko Cinque baci Cinque baci E al primo posto Oh Samue E to 10 euro Cosa sono questi? Non hai mai visto in vita tua Ah cattivo Voglio salutare i miei amici da casa Eeeh Ragazzi McDonald's per tutti Cheeseburger 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 Grazie per la visione!